Hello there! Oggi faccio il vlog della mia festa non è il mio compleanno perché il mio compleanno è il 25 luglio però oggi faccio la festa di compleanno perché poi durante luglio non ci saranno i miei amici quindi sono invitati qui nella mia casa arriveranno oggi pomeriggio adesso sono le 12.20 loro arriveranno e faremo una festa in piscina infatti ho già sotto il costume poi forse lo cambiano non lo so, devo decidere quale mettere adesso mi sono un po' truccata ma ancora non sono truccata totalmente non sono ancora vestita totalmente su un vestito normale perché dobbiamo sistemare tutto quindi adesso scendo giù in sala e fuori e mettiamo a posto tutto e addobbiamo per la festa ah, e non ve l'ho detto penso che lo sappiate ormai perché me l'avete chiesto tantissimi compio 18 anni però ovviamente non li compio veramente quindi sarà solo una festa finta cioè una festa ma la mia vera festa è il 25 luglio oggi tra l'altro è il 24 giugno quindi praticamente un mese prima del mio compleanno vero adesso sono fuori nel mio giardino per farvi vedere dove faremo la festa questa, vabbè è un po' ovvio visto che è una festa in piscina la faremo qui questa è la piscina e questo è uno sdraio non so come si dice comunque ne avremmo altri però per ora ce n'è uno e spero che mio papà li monti prima che arrivino tutti vabbè questa è la piscina e praticamente qua è la parte bassa e poi va sempre e poi va giù sempre più alta quindi ci potremo divertire abbastanza vediamo se l'acqua com'è ah che bella e fresca e praticamente qui in casa mettiamo le altre cose allora qui ho portato giù dalla mia stanza i cuscini che li mettiamo sul divano quello che è normale del mio salotto mettiamo sui miei cuscini e poi qui ci sono tutte le cose che dobbiamo adesso queste cose qui per esempio le ho prese nuove all'Ikea queste ce le avevo già questo è di mia sorella che me lo presta qui poi abbiamo tutto lo corrente in questa bellissima borsa con i gatti per arredare anche qui fuori da tutte le parti e poi dobbiamo anche preparare da mangiare dobbiamo preparare le cosine da mettere da mangiare e sono felicissima perché è una bella giornata e speriamo che rimanga e poi c'è anche una bella luce qui oggi si allora abbiamo finito di sistemare le decorazioni adesso ve le faccio vedere allora il tavolo è questo qui abbiamo messo cioè in realtà io ho messo ho messo i tovagliolini i piattini poi ci sono già da mangiare ci sono già le pizzette e poi mettiamo altro poi qui ho messo tutte le cannucce in questo vaso dell'Ikea è tutto dell'Ikea quello che vedete i bicchierini altri di tovagliolini e poi ci sono questi piatti più grandi per mettere le altre cose e poi questo candelabro qui che avevamo già ovviamente io ci ho fatto sopra tutti questi nastrini così per renderlo più carino e poi qua dietro adesso dobbiamo finire stiamo mettendo i vari fiori finti dell'Ikea poi un po' di vasetti che dopo ci mettiamo le candeline ancora i miei vasetti qua ho messo un altro cuore di carta perché gli altri li abbiamo messi un po' in giro per la casa qui non li metto fuori perché ho paura che dopo si bagnino se viene a piovere speriamo di no e poi qua ho fatto ancora i vari ho fatto ancora tutti i fiocchetti è arrivato il primo invitato tadaaa qualcuno ha saluto comunque si chiama Luca e lui è il primo invitato che è arrivato in anticipo lei è la seconda invitata arrivata buongiorno buongiorno Teo tutto bene? sì te anche io bene possiamo iniziare la festa adesso stiamo salendo subi sopra per andare a cioè io devo truccare ma mi parli un po' di rosso eh? sì trucco anche lui perché è rosso e adesso mi sono ascoltato in barca e quindi adesso siamo qui qui ci sono già pronti i miei trucchi e vedrò come come truccarmi visto che il mio vestito sarà questo abbiamo scelto questo vestito qua perché è rosso e dietro al fiocco ed è di Forever 21 e come costume penso che metterò questo anche se poi non mi metterò in costume e anche questo di Forever 21 allora mi sono truccata e ho fatto questo trucco che mi piace un sacco perché è bello luminoso qui e qui c'è l'ombra e poi ho messo il rosetto rosso perché ho messo questo vestito rosso nero con i fiori rossi e sotto ho messo questo un costume a po' qua nero e poi mi metterò questa che è la corona di fiori è stra bella metto questa corona che sta bene perché sarò tutta rossa e intanto sono arrivati altri due invitati c'è Matteo e cosa devo dire niente ciao sono Matteo e sono amico di Tiago e anche amico suo adesso e anche di Luca che sta veramente e si che è dietro di me quindi e poi qua c'è Luca e poi c'è Tiago che ormai lo conoscete Tiago perché lo aspettavate da tanto tempo in un video e finalmente sono qui si era un po' alto lui adesso scendiamo abbiamo preso le nostre salviette ah sì 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 scendiamo giù ad aspettare gli altri invitati che arrivano anche se la Mila ha già dato un inizio mia sorella ha già dato l'inizio però non è ancora iniziata su serio e siamo qui che ovviamente è tutto ancora pronto nessuno ha toccato niente e quindi adesso aspettiamo gli invitati andiamo a vedere chi è arrivato ciao ciao io sono papo tadaaa questa è da portare siamo tutti in tema fiori ciao allora siccome sta andando via il sole allora Tiago non vuole perdere un attimo di tempo e vuole buttarsi salutare sì lei ha ciao ciao allora vediamo tutti Tiago forza Tiago vai vado eh attenta a scivolare che è oh ciao 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 sono la Letty tanti auguri ciao io e la Letty riunite la Cabri bravi con la festa ciao 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 Con le donne All'8 e mezza All'8 e mezza Allora, aggiornamento della festa Tiago Allora, abbiamo fatto il bagno Praticamente l'abbiamo fatto io, Luca e Matteo Basta, adesso sono qua tutti in cerchio Qui nella sala Niente, l'abbiamo mangiato Sta piovendo col sole Ex-tra-tra-tra-wrest-ria Sopra 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 L'anca L'anca Grazie Con le fiori Lo so Che bello E' bellissimo Mi piace un sacco Grazie Grazie Volevo vedere Volevo vedere Volevo vedere Ho messo anche Questi cosi Sono Le 7-10 Con un po' di sale Ce l'abbiamo fatta? Ah, questo ero io Sono nate per tutti i compreanni L'anturia Bellissimo E' una tradizione Sì Luca se vuoi venire a prendere il regalino Dai non guardare Dai Pazzo Allora Ciao Ciao Sono le 8 Ed è l'orario per fare Il bagno E' un'altra Per cambiarlo Che l'abbiamo Che l'abbiamo E' una tradizione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti